i clienti dell'albergo entravano lentamente nella grande sala da pranzo e si sedevano i camerieri cominciavano a servire con la stessa lentezza per permettere ai ritardatari di giungere in tempo e per non dover più tardi recare una seconda volta le stesse vivande i clienti più vecchi guardavano ogni schiudersi d'uscio e sopraggiunto in attesa di un viso nuovo è questa la maggior distrazione delle città climatiche si attende l'ora dei pasti per conoscere i nuovi villeggianti per indovinare chi sono ciò che fanno ciò che pensano un desiderio nasce in noi quello di incontri gradevoli di conoscenze piacevoli forse anche di amori e ogni vicino ogni sconosciuto assume una grande importanza la curiosità è vigile la simpatia è inattesa la socievolezza in fermento si hanno antipatia di una settimana e amicizie che durano un mese si vedono le persone con occhi sempre diversi sotto un'ottica speciale si scoprono negli uomini a un tratto durante una conversazione dopo cena sotto gli alberi una intelligenza superiore e meriti eccezionali ma dopo un mese i nuovi amici così simpatici nei primi giorni sono già belle dimenticati si formano però anche legami durevoli e seri più presto che in qualunque altro luogo ci si vede tutti i giorni ci si conosce molto presto e alla cordialità che comincia si mescola qualche cosa simile alla dolcezza e all'abbandono delle vecchie intimità più tardi si conserva il ricordo caro e commosso di quelle prime conversazioni attraverso le quali si fa la scoperta delle anime e si serva il ricordo dei primi sguardi che interrogano e rispondono alle domande e ai pensieri segreti che la bocca ancora non dice il ricordo della prima confidenza cordiale il ricordo della deliziosa sensazione provata aprendo il proprio cuore a qualcuno che sembrava aprirvi il suo e la tristezza della stazione climatica la monotonia dei giorni sempre uguali rendono d'ora in poi più completo quello sbocciare d'affetti quella sera dunque come sempre aspettavamo l'ingresso di facce nuove ne entrarono due molto strane un uomo e una donna padre e figlia mi fecero l'impressione subito di due personaggi di Edgar Poe quantunque notassi in loro una specie di suavità dolorosa me li immaginai come due vittime della fatalità l'uomo era alto, magro, un po' curvo, coi capelli bianchi, troppo bianchi per il suo viso ancora giovane aveva nell'incedere, in tutto il portamento, un chiedi grave, di austero, di severo la figlia, che dimostrava 24-25 anni, era piccola, magrissima, pallidissima, con un'aria stanca, affranta, accasciata se ne incontrano spesso di queste creature che paiono troppo deboli per le fatiche e le necessità della vita troppo fragili per muoversi, per camminare, per fare tutto ciò che ognuno fa di consueto era abbastanza bella, ma di una bellezza diafana e irreale mangiava con un'estrema lentezza, come fosse incapace di muovere la macella era certo per lei che essi erano venuti alle terme si trovavano seduti proprio di fronte a me notai subito che il padre aveva un tic nervoso singolarissimo ogni qualvolta stava per afferrare un oggetto la sua mano compieva una specie di moto convulso un zigzag e febbrile prima di pervenire a toccare quel che cercava dopo un poco quel movimento mi esasperò a tal punto che volse altrove il capo per non vederlo notai che la giovane aveva la mano sinistra coperta da un guanto dopo cena andai a fare un giretto nel parco dell'albergo eravamo in una stazioncina dell'alvernia a Châtel-Guillon una stazioncina nascosta in una gola ai piedi di un'alta montagna da cui si sprigionano sorgenti d'acqua calda scaturite dal focolare profondo di antichi vulcani quella sera faceva molto caldo passeggiavo sotto un viale alberato ascoltando dal poggio che damina il parco giungi raffievolita la musica dello stabilimento d'un tratto vidi venirmi incontro sullo stesso viale i due nuovi ospiti salutai come si è soliti salutare nelle stazioni climatiche i propri compagni di cura l'uomo subito si fermò chiedendo potresti indicarsi signore una passeggiata breve, facile e piacevole perdonate la mia indiscrezione mi offersi di condurli nel vallone ovvero sorgeva un esiguo corso d'acqua un vallone profondo una stretta gola chiusa tra due pareti rocciose e boschive essi accettarono e naturalmente il primo argomento ebbe per oggetto la virtù delle acque il padre diceva mia figlia ha una strana malattia della quale non si è riusciti a conoscere la causa soffre di accessi nervosi incomprensibili la ritengono ammalata ora di cuore, ora di fegato ora affetta da un indebolimento della spina dorsale i medici affermano oggi che si tratta di mal di stomaco ecco perché siamo qui io credo invece che si tratti piuttosto di nervi in ogni caso signore è una faccenda seria mi ricordai subito del tic violento della sua mano e chiesi non è forse ereditario il male di cui soffre la signorina non siete anche voi ammalato dello stesso male rispose pacatamente io ho sempre avuto inarvi a posto poi subitamente colpito aggiunse ah volete forse alludere alla contrazione della mia mano è la conseguenza di una terribile emozione che ho provato figuratevi che questa povera figliuola mi è stata sepolta viva gli è di un'esclamazione di stupore e di commozione e gli riprese subito ecco come si sono svolti i fatti Juliet si chiama così la mia figliuola soffriva da tempo di gravi disturbi di cuore sapendola affetta da questa pericolosa malattia mi preparai a tutte le sorprese un giorno me la riportarono in casa di accia esanime morta era poco prima venuta meno in giardino il medico ne constatò la morte vegliai presso di lei un giorno e due notti la acconciai con le mie stesse mani nella bara che accompagnai sino al cimitero dove la fece inumare nella tomba di famiglia eravamo in piena campagna in Lorena avevo voluto fosse sepolta con tutti i suoi gioielli brazzaletti, anelli tutti i doni che le avevo fatto e con la sua prima veste da ballo pensate in quale stato fosse la mia anima quando l'incasai non avevo altro che lei poiché ero vedovo da lungo tempo ritornai dal camposanto solo estenuato quasi folle allorché fui nella mia camera mi abbandonai su una poltrona senza un pensiero senza la forza di fare un movimento non ero più che una macchina dolorosa vibrante straziata la mia anima somigliava a una piaga viva il mio vecchio domestico Prosper che mi aveva aiutato a deporre nella bara Juliet e ad adornarla per il suo ultimo sonno entrò ad un tratto senza far rumore e chiedendo signore volete prendere qualcosa? fece un segno negativo col capo insistete avete torto signore vi farà male star tanto tempo digiuno volete che vi aiuti a colicarvi? no lasciami solo uscì chiudendosi dietro l'uscio quante ore trascorsi in quello stato d'animo non lo so che notte che notte faceva freddo il fuoco si era spento nel caminetto e il vento un vento invernale di accio batteva contro le finestre con un rumore sinistro quante ore trascorsero così ero insonne affranto accasciato con gli occhi sbarrati le gambe allungate il corpo afflosciato lo spirito intontito dalla disperazione ad un tratto il campanello della porta d'ingresso suonò ebbe un tale sobbalzo che la poltrona cigolò sotto di me suono grave e pesante che già nel castello come in un sepolcro vuoto mi voltai per vedere l'ora al mio orologio erano le due del mattino chi poteva essere a quell'ora il campanello suonò di nuovo i domestici non osarono alzarsi per andare a vedere chi fosse presi un lume e discesi ero in procinto di chiedere chi è ma poi ebbi vergogna del mio timore e tirai lentamente il chiavistello il cuore mi batteva forte avevo paura sì ma persi di colpo la porta scorsi allora nell'ombra una forma bianca ritta un fantasma indietreggiai sconvolto dall'angoscia balbettando chi 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 è ma una voce rispose sono io babbo era mia figlia era mia figlia mi credette impazzito ad un tratto arretra inciampando dinanzi allo spettro che si non trava facendo con la mano un gesto come per scacciarlo quel gesto che mi avete veduto fare a tavola e che non mi ha mai più abbandonato l'apparizione riprese non aver paura babbo sono io juliette non sono morta guardami hanno voluto togliermi gli anelli tagliandomi un dito il sangue ha ripreso a colare e mi sono risvegliata guardami babbo mi accorsi infatti che ella aveva tutte le vesti insanguinate cadde i genocchioni affannato singhiozzante poi quando riuscì a riavermi ma non ancora a sufficienza per capire tutta la felicità che mi era dispensata feci salire juliette nella mia camera la feci sedere nella mia poltrona quindi premetti il campanello per chiamare prosper perché venissi a riaccendere il fuoco e andassi a chiamare un medico prosper entrò guardò mia figlia aperse la bocca in uno spasimo di terrore e di orrore poi si arrovesciò all'indietro stecchito morto di colpo era stato lui ad aprire il sepolcro a mozzare il dito alla mia juliette lui che aveva sempre avuto la mia fiducia vedete signore come siamo stati provati duramente tacque la notte era calata avvolgendo il piccolo vallone solitario e triste una paura misteriosa mi avviluppò il cuore sentendomi vicine quelle due strane creature la rediviva e il padre dai gesti inquietanti non trovavo parole mormorai che cosa orribile poi dopo un poco aggiunsi se ritornassimo fa un poco freddo e ci incamminammo verso l'albergo grazie a tutti